bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi porto un metodo per fare tre cose ragazzi veramente una figata è un metodo che esiste da sempre ma siccome ultimamente sto portando contenuti in beef abbiamo bisogno di questo quindi ragazzi come ottenere jokers neri jokers rossi e giubbino antiproiettile non selezionato nero per poi flipparlo in beef e farlo diventare colorato requisiti ci servirà il bunker ragazzi e il com con all'interno ragazzi il centro di comando per avviare le missioni del com una volta che vi siete sistemati tutto e siete in questa schermata come ben vedete probabilmente le avete tutte bloccate ragazzi come fate a sbloccarle dovete fare 14 recuperi scorte non dovete compararli dovete fare 14 recuperi scorte e vi sbloccherà ragazzi poi da fare queste missioni una volta fatte le 14 ci sbloccherà tutte quante tranne le ultime due quindi dovremo andare a avviare la penultima ragazzi per sbloccare poi l'ultima quindi la avviate fate entrare un vostro amico e una volta che avete fatto ciò che avete completata raga vi dirigete nel vostro com riandate qua dal centro di comando comunque dal computer e come ben vedete avrete sbloccato l'ultima missione quindi raga il primo quindi lost jog neri e giubbotto antiproiettile non selezionato il secondo prenderà i jokers rossi e il terzo prenderà i jokers neri ragazzi con il giubbotto quello un po più grosso corazzato con le tasche quindi fate entrare i vostri amici e potete prendere gli outfit a due alla volta raga non di più lasciate difficoltà normale che è fondamentale se lo fate in più persone quindi a questo punto una volta che spawneremo dovremo prendere i nostri oppressor e raga andare nel nostro appartamento più vicino un eclipse tower oppure qualsiasi altro appartamento l'importante che conosciamo la posizione a memoria quindi una volta fatto ciò saremo arrivati sotto l'appartamento io userò le eclipse tower raga cosa dobbiamo fare semplicemente ci uccidiamo vi ricordo usate la modalità normale perché sennò fallirà l'attività quindi vi uccidete e una volta che siete rispaunati entrate dentro il vostro appartamento quindi a questo punto sbada bam ragazzi avremmo salvato l'outfit con i jokers con il giubbino ragazzi con quelli rossi con quello con le tasche scegliete voi cosa prende vi ricordo che l'host prende sempre il nero con il giubbino antiproiettile il secondo prenderà i rossi il terzo i neri e il quarto i rossi quindi quittate l'attività dal telefono e una volta che spawnerete avrete nello stile il vostro completo salvato questo punto lasciate un like lasciate un commento supportate savix e supportate il canale iscrivetevi abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima ragazzi e niente alla prossima sbada bam ciao 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 ciao